Io ho già saltato una coppa qua a Roma, quindi diciamo che l'esperienza emotiva è stata forte, quindi adesso sono molto più preparata. Noi siamo tutti in forma, veniamo tutti da gara abbastanza positive, sono molto contento per Lucia. Luca campione italiano, Riccardo, tutti in forma. Sono orgoglioso di far parte di questo team, è la prima Coppa Roma per me, però sono pronto, vengo da una buona stagione, quindi speriamo di confermare il tutto. Non ci sarà Bruno, ma ci sarà Lorenzo e io vi auguro che all'ultimo salto Lorenzo possa ripeterlo, ma come hanno detto loro siamo tutti in forma, la squadra è diversa, ma siamo pronti e positivi. Ecco per venerdì.